Doveva essere una domenica di sport, così purtroppo non è stato. La partita fra Canicatti e Licata, valida per la ventisesima giornata del girone I di Serie D, si è presto trasformata in attimi di tensione fra le due tifoserie. L'episodio si è verificato domenica pomeriggio all'esterno dello stadio Saraceno di Ravanusa in provincia di Agrigento, durante il derby agrigentino fra Canicatti e Licata. Sono state almeno cinque le auto danneggiate. La polizia, i carabinieri e la guardia di finanza, presenti per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica allo stadio di Ravanusa, nel tentativo di evitare il contatto fra le due tifoserie, sono state bersagliate dal continuo lancio di sassi e bottiglie di vetro.